Un ecomostro, potremmo dire tra il serio e lo scherzoso, tutto fanese. Il sottopasso di via Sandro Pertini vicino alla rotatoria sulla Flaminia. Doveva servire per evitare l'attraversamento pedonale in una zona ad alto scorrimento e con le sue rampe agevolare la mobilità di chi è costretto a muoversi in carrozzina. Questo è il tunnel che serviva di collegamento e quindi per attraversare la strada è il sottopasso ma ormai le erbacce hanno preso il sopravento. Inaugurato negli anni 90 questo sottopasso ha avuto vicende alterne e non è mai decollato, poco usato e poco amato dai passanti per i suoi arzigogolati percorsi e le sue pendenze. Al più è stato in passato utilizzato da qualche clochard per dormire all'addiaccio o come luogo appartato da qualche tossico dipendente. Da qui la decisione di chiuderlo e di transennarlo e così sulla sua sorte ha messo la parola fine il tempo, le erbacce ed il degrado che inesorabilmente lo stanno soffocando. Ormai sono un ricettacolo, un contenitore di rifiuti, di sporcizia e di erbacce. Anche pezzi che sono caduti della ringhiera sono riversi su quello che rimane di questo camminamento. Molte segnalazioni sono giunte alla nostra redazione nel tempo e anche ora il suo stato è di totale abbandono alla sporcizia. Purtroppo non è un problema nuovo perché probabilmente si tratta di una soluzione inutile pensata fin dei primi anni 90 quindi effettivamente non credo sia mai stato neppure aperto quel pezzo di sottopasso per cui una soluzione assolutamente inutile. Poi non serve a niente perché la gente passa sopra e quindi una soluzione inutile dei primi anni 90. Adesso voglio dire è chiaro che quella soluzione c'è, ce la troviamo noi nel 2016 quindi cercheremo nel limite del possibile anche in tempi abbastanza rapidi di serrarlo meglio in maniera tale che nessuno possa andare e che comunque sia sicuro da tutti i punti di vista perché effettivamente non è nostra intenzione assolutamente riaprirlo né spenderci soldi per la sistemazione se non appunto metterlo in sicurezza e chiuderlo. Purtroppo quello è un'unità del passato come tante cose succedono per cui ecco almeno la manutenzione tra virgolette degli accessi in maniera tale che non recchino danno alle persone che ci passano vicino sicuramente lo faremo. Cercheremo di tenerlo pulito almeno insomma.